Colleghi, per favore, davanti all'onorevole Fraccaro, ce lo fate vedere? È riuscito? Perfetto. Scagliusi ha votato? La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'articolo 3, dichiaro aperta la votazione. La Camera approva. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, dichiaro aperta la votazione. La Camera approva. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5, dichiaro aperta la votazione. Palese. Adornato. Caso. Chi è? Frusone? Ce l'ha dei colleghi davanti? Io non vedo se ha votato. Ho riuscito. Perfetto. Altri? La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 6, dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Grazie.